il progetto io leggo perché ognuno di noi può dare il suo punto di vista il fumetto del quale andremo a parlare oggi per esempio è un linguaggio che in quanto linguaggio è qualcosa che serve per comunicare un fumetto classico il portomartese da parlare del marcelago un fumetto nato a venezia negli anni 60 che è considerato una delle primi e grafic nobel io non ho mai letto un libro a prof non mi piace leggere questo ha detto il primo giorno e quindi hai cominciato con questi che parlavano d'amore e quindi piacevano ho sempre letto un po di tutto un sacco di copolina però credo che questo fumetto in realtà si divide in due tomi forse il primo è molto carino per il bellino che riesce sempre come tenzione ai guai vederli però sono molto vivati mi piace perché descrive l'amore in modo molto bello grazie a tutti grazie a tutti